Un medico napoletano di 33 anni si è perso nel parco dei Camaldoli a Napoli mentre inseguiva il suo cane scappato durante una passeggiata nella serata di giovedì 10 ottobre 2024. Dopo aver ritrovato l'animale, l'uomo si è accorto di essersi smarrito e con il buio ormai calato ha faticato a ritrovare il sentiero. Nonostante la difficoltà è riuscito a trovare una zona con segnale telefonico e a chiamare i familiari informandoli della situazione della batteria del cellulare quasi scarica. La madre e il fratello del medico si sono subito rivolti alla caserma dei vigili del fuoco di via Ianelli dove hanno incontrato una squadra in partenza per un altro intervento. I pompieri hanno modificato la missione insieme ai familiari, si sono recati al parco dei Camaldoli aiutati dalla posizione GPS inviata dal disperso. Le ricerche sono state complicate dalla scarsa visibilità e dall'affitta vegetazione, ma dopo circa 30 minuti i soccorritori in contatto intermittente con il medico sono riusciti a localizzarlo. Con l'aiuto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campagna, intervenuto successivamente, l'uomo è stato trovato e riportato dalla sua famiglia. Intorno alle 20.45 è stato dichiarato fuori pericoli accompagnato all'auto, tornando a casa sano e salvo con il suo cane.